buongiorno buona gente questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di etv per la nostra vostra rassegna stampa dalle 6 e 45 del mattino vi teniamo compagnia siete voi soprattutto a impreziosire la nostra giornata poco fa la storia toccante di una ragazza che ci ha detto sei anni fa entrava in coma ora sono a posto aspetto un bambino roberta le dedica un pensiero tanti tanti auguri lo facciamo anche noi questa è la bellezza del buongiorno e poi stefania quarcetti fabio micheli grande dirigente sportivo roberto spadoni buongiorno i nostri vostri messaggi soprattutto dedicati a gimbo tamberi ci torneremo ricordandovi che siamo in onda per tutta l'estate anche quest'anno come l'anno scorso la novità era l'anno scorso quest'anno la confermiamo dalle 6 45 alle 9 30 ma anche in riproposizione 13 e 30 14 e 30 e poi dalle 18 alle 19 per il buongiorno e buonasera notizie anche tramite whatsapp e poi ci tuffiamo sui giornali buongiorno a chi accompagna il risveglio con il sorriso e prova a dipingere la giornata di mille colori io che sono dal tonico apprezzo molto queste riflessioni andiamo ora però al di là delle battute con subito cinque notizie una per provincia e allora molta politica chiaramente a fano il neosindaco luca serfilippi è già in carica già al lavoro in giunta entreranno i più votati ecco i sette papabili tutti i rieletti anche gli assessori di ricci che ora vedrà biancani come se inserire in squadra neosindaco di pesaro ad ascoli la giunta del fioravanti bis è già in agenda 11 in poll per affiancare il sindaco anche qui riconfermato ballottaggio ad urbino gambini chiude la porta niente apparentamento con la crespini quindi la crespini probabilmente cercherà un feeling con scaramucci il rivale centrodestra centrosinistra anche ad osimo subito ballottaggio fra francesco pirani e michela glorio gli accordi risulteranno fondamentali antonelli alla finestra l'apertura però è dedicata sempre alla politica ma soprattutto ad un caso che si è aperto nella pd marche l'ira della schlane per le europee mi avete fatto arrivare terza 15 mila preferenze solamente tra virgolette per la segretaria di partito battuta anche dai suoi stessi candidati poi due vicende di cronaca ricorderete purtroppo il dramma un anno fa della ragazzo ucciso con un colpo di fiocina al cuore un 23enne solamente scatta il processo in corte d'assise l'omicida rischia l'ergastolo e poi la fer delle ferrari con irene pivetti chiesti tre anni per l'ex pilota isolani un'inchiesta che è arrivata anche nelle marche in primo piano arrivano però altre due big emma e baby k sul palco dell'rds summer festival a senigallia abbiamo già accennato al fatto che ieri si è tenuto questo super mega concerto a pesaro eventi appuntamenti grandi talenti ecco emma e baby k sul palco il 22 giugno per l'rds summer festival emma e baby k si daranno il cambio sul palco di piazza garibaldi a senigallia ripeto il 22 di giugno non è tv coinvolta ma è un appuntamento importante tv sarà invece coinvolta per caffè teatro questo format che abbiamo lanciato qualche giorno fa ufficialmente con tanti protagonisti nel nella cornice meravigliosa di villanappi di polverigi grazie a in teatro poi vi daremo altri dettagli intanto potete andare sulla pagina facebook pronti a ripartire anche con i giornali la carta stampata è pronta già l'edizione di pesaro e provincia ma prima fatemi salutare chi ci scrive da whatsapp il giardino l'ulivo fiorito ci scrive gianni da fano guarda gianni sarà un caso o provvidenza vado proprio con il giornale nella zona di pesaro e fano allora la giunta cotta e mangiata eletti tutti gli ex assessori biancani verso il copia e incolla dell'esecutivo uscente due invece sono in bilico ricci suona la carica e dice basta con i dispetti nel pd poi torna a sfidare acquaroli e dice non scappare dalle strade al porto le sfide che attendono il comune sono nove le promesse ora da mantenere tra i punti più importanti certamente quello della nuova bretellina collegata al casellino diciamo così a pesaro il pd intanto lascia a piedi il segretario e la capogruppo a fano in giunta entrano gli eletti più votati ser filippi è già in carica già al lavoro a urbino come abbiamo sentito poco fa ballottaggio caldo caldo il sindaco gambini annuncia corriamo da soli infine tenta di truffare un'anziana ma un falso militare viene smascherato complimenti a questa nonnina che si è dimostrata uno zero zero sette lei gli chiede il tesserino e così lo mette in fuga mi faccia vedere il distintivo invece altri raggiri purtroppo sono andati a buon fine a proposito di clima caldo dicevamo poc'anzi da urbino che clima farà nelle prossime ore allora ero già proiettato sulla giornata di domani 13 di giugno faccio però un passo step by step passo passo e allora per oggi è possibile sì che cadano piogge faccio il focus sul maceratese perché è là dove potrebbe cadere anche qualche temporale attorno quando alle 17 dalle 17 alle 20 temporali con schiarite per la provincia di macerata faccio lo stesso esercizio cronologico per la provincia di ancona qui stessa fascia oraria oraria ma precipitazioni più deboli piogge schiarite non a carattere temporalesco in provincia di ancona dopo il pesarese le news legate sempre con il corriere poi ci spostiamo al carlino andiamo con il corriere anconetano e inevitabilmente la prima pagina se la prende tutta gimbo tamberi che abbiamo già mostrato sul nostro sito è tv marche punto it lo spazio gli è dovuto intanto il giornale mentre parlo attendo questo è il momento di concentrazione di gimbo prima della gara e poi eccola qua non si aspettava che partisse il giornale eccolo tamberi l'oro del presidente vince saltando 237 davanti a mattarella è stata quella un po la scena che più ha colpito molto molto apprezzata anche qualche critica verso l'esultanza di gimbo istrionica ma ragazzi se un ragazzo che vince l'oro agli europei non si può permettere di esultare un po come gli pare senza esagerare senza offendere nessuno mi pare un po paradossale queste critiche leggere queste critiche mi pare paradossale sarà che sono tifoso di gimbo lasciala in terza e non ha gradito scoppia il caso in seno al pd la segretaria furiosa col partito marchigiano per le poche preferenze ottenute dietro a ricci e morani c'è anche un messaggio interessante che dice ma che c'entra il pd se la gente l'ha votata poco sarà colpa sua sempre colpa degli altri allora siamo più realisti del re è chiaro che nelle varie segreterie regionali ci sono delle indicazioni di voto o dei consigli dei suggerimenti di voto no guarda puntiamo un po su questo piuttosto che su quell'altro candidato perché la scelene se la prende col partito col pd marche perché poteva e doveva essere il pd marche a spingere un po l'elettorato del pd a votare per la scelene se ha ottenuto questo scarso risultato la scelene dice è colpa del partito che localmente non ha spinto ma ci sta di riflettere dire ma scusa se non sei stata votata sarà anche un po colpa tuo punto di domanda tamberi l'oro del presidente vince saltando 237 davanti a mattarella io ho anche una foto di gimbo ci sono anche i video dappertutto ma per ora mi ferma questa foto qua di gimbo che abbraccia si spupazza si spupazza il presidente come fosse nonno suio l'affare delle ferrari chiesti tre anni all'ex pilota isolanico in volta anche irene pivetti castelfidardo scontri dopo la gara identificati tifosi scattano quattro daspo la gara civita novese castelfidardo un altro guasto in centro ad ancona negozi e tribunale al buio per blackout infine la storia terribile di osimo uccisa davanti alle figliole marito punito con l'ergastolo e il femminicidio di osimo massacrata per gelosia la madre di laria dice ora avrà tempo a pensare al male che ha fatto giustizia è fatta qui siamo di nuovo a fano voglio ringraziare chi ci sta scrivendo al 349 39 18 169 il giardino l'ulivo fiorito grazie caro gianni buongiorno dallo staff di 40 sfumature di lotto da castelfidardo grazie buongiorno anche a voi che cos'è è un negozio un locale non lo conosco confesso già marco è vero esulta se c'è da esultare piange se c'è da piangere è tornato vittorioso dopo un infortunio grave dove lo davano per finito ed ammirare la sua esuberanza poi nell'intervista finale ha dedicato la sua vittoria a tutti coloro che partono che lottano forse per qualcosa di serio ecco un altro messaggio di difesa e io sto con te sto con chi difende gimbo piuttosto che chi lo accusa di eccesso di esultanza buongiorno dal terrazzo di giusi qui ad arcevia questa notte è piovuto è piovuto in tante zone delle marche debbo dire e non avevamo previsto con tanta estensione questa perturbazione che anche oggi e domani si farà vedere e sentire viva il terrazzo di giusi avevamo pronto il giornale dopo l'edizione di pesaro e ancona per ascoli e san benedetto ci arrivo tra un secondo perché vorrei fare un attimo il punto sul caso elezioni regionali molti giornali stanno già considerando di fatto la campagna elettorale per le regionali aperta sfida ricci acquaroli ecco il servizio abbia avuto tre candidati marchigiani dell'europea è stato un grande errore e lo dico perché se già ne avessimo avuti due così come eravamo d'accordo oggi forse adesso sarebbe il parlamento europeo e se non è così come lo ritengo un errore come dire non capire che noi avevamo bisogno in questa campagna elettorale di polarizzare la partita politica tra noi e acquaroli e tra l'altro gli rinnovo la sfida perché è scappato in campagna elettorale adesso che sono parlamentare europeo vorrei confrontarmi con lui su che cosa serve alle mani cerchi lui un luogo dove confrontarsi e non mi faccia sostituire la cicciola all'indomani dei festeggiamenti per il risultato raggiunto alle elezioni europee e della riconferma del PD alla guida della città di pesaro il sindaco uscente neo eletto parlamentare europeo matteo ricci da ancona fa un bilancio a 360 gradi della tornata elettorale appena passata e si toglie più di qualche sassolino dalla scarpa nelle sue bordate non risparmia nessuno dalla segretaria nazionale ellie schlein a cui rimprovera la candidatura alle europee di tre candidati nella regione ma cui comunque ribadisce più volte il suo appoggio alla segretaria regionale chantal bonprezzi non presente in conferenza stampa a cui tende una mano anche in vista delle prossime elezioni regionali dalle europee e dalla vittoria di pesaro secondo ricci parte infatti la risposta delle marche io voglio dare una mano generosa e totale alla nostra segretaria perché ha vinto le primarie e la nostra segretaria regionale lei si faccia aiutare perché se noi ritroviamo un'unità vera una voglia di lavorare in squadra una voglia di smetterla di farci dispetti eccetera noi possiamo costruire un quadro nel quale poi alla fine sceglieremo la persona più competitiva io voglio dare una mano in questo nel frattempo faccio il parlamentare faccio il parlamentare europeo ecco mi piacerebbe che invece di vedermi spesso e volentieri come una minaccia venga visto come una risorsa a gioire oggi ad ancona del risultato capitalizzato nelle elezioni europee anche il neo eletto europarlamentare carlo ciccioli ad applaudirlo nella sede d'orica del partito tutto il gota regionale di fratelli d'italia cappeggiato dal presidente di regione francesco acquaroli che non sembra per il momento voler raccogliere il guanto di sfida lanciato da ricci io non voglio parlare da qui ai prossimi otto mesi di sarà il mio competitor questo lo sceglierà il partito democratico sceglieranno la coalizione di centro-sinistra noi siamo concentrati e resteremo concentrati a continuare a dare quelle risposte che per troppi anni sono mancate io non guardo mai gli avversari è che è giusto che gli avversari facciano il proprio è giusto anche che cercano di costruire quell'alternativa al governo mi permetto di dire che ho visto un grande risultato personale del sindaco ricci però il pd non ha scondato la verità è questa di fatto guardando ai dati il partito di giorgia meloni nel voto europeo in regione fa meglio della media nazionale arrivando a sfiorare il 33 per cento addirittura nelle tre province roccaforti del sud macerata fermo ascoli il partito si attesta tra il 35 e il 36 per cento va molto bene anche il pd che si attesta al 25,5 per cento ed è il secondo partito nelle marche addirittura primo in provincia di pesaro dove conquista il 30 virgola 22 per cento dei consensi da questi numeri si parte per la sfida delle regionali ricci si muove il problema delle regionali adesso le regionali saranno alla fine dell'anno prossimo allora dove ricci comanda alla linea dove ricci invece deve arrivare degli acqua fa un gran casino in fondo il pd muore di contrasti interni se dobbiamo dire perché il pd si è perso le marche il pd si è perso le marche perché la sua classe dirigente è litigiosa non ha una visione comune e questo il servizio molto bilanciato equilibrato con voci dell'una e dell'altra parte da parte della collega giulia boschi come nello stile di tv stefania buongiorno micaela buongiorno fabio buongiorno buongiorno anche a chi ci manda queste splendide immagini di balconate mi pare fosse l'amica giusi da arcevia pronto ascoli e san benedetto con la giunta facenda gerundio il nodo quota e rosa dopo l'esploi elettorale fioravanti pensa al nuovo esecutivo l'elenco di tutte le preferenze con il taglio centrale invece andiamo a in corso trieste e bisogna portarsi il grattino perché sarà pagamento rifacimento della segnaletica per le zone blu in corso trieste ascoli cittadino avvisato solo mezzo multato tassa di bonifica raffica di ricorsi da parte degli agricoltori ascoli visite ed esami il cup attiva un nuovo numero un numero verde abbiamo ascoltato anche a pesaro la stessa scelta intanto senigallia quando è l'appuntamento 22 di giugno il super concertone m baby k sul palco dell'rds summer festival vi avevo però raccontato anche di questo numero verde che vado a recuperare tra un secondo per quanto riguarda il pesarese me lo sono segnato non posso esimermi ora dal confermarvelo eccolo cup market ripristinato il servizio e anche un nuovo numero telefonico poco fa avrete notato un video che mostra l'ingresso ufficiale di luca paolo rossi il sarto dei vip racconta il corriere eletto sindaco a filottrano con un'esultanza goliardica eccolo qua il contributo che mostra il momento nel quale il primo cittadino fresco di elezione è entrato ufficialmente nella casa del comune ho intrasentito un cucù rivolto all'interno della della sala vado ora a completare il quadro del corriere ascolano è un parco della lettura e percorsi sensoriali presentazione del festival del libro a venarotta alunni raccontano la ricostruzione post sisma venarotta si prepara ad una full immersion nella cultura poi lo sport con l'ascoli calcio come ci chiedete confermo che c'è la possibilità che l'ascoli vada nelle mani di un fondo americano il sindaco fioravanti il mondo è bello perché vario patrizia camilletti buongiorno a te michaela stefania buongiorno completo il quadro del corriere per civita nova e zone limitrofe spiagge pet friendly aree pericani nelle zone libere è una notizia che ha scatenato un po tutti poco fuori ho ricevuto anche foto di amici a quattro zampi in spiaggia anche a marotta ci hanno segnalato una spiaggia pet friendly portore canati danni al litorale siamo penalizzati lo sfogo di un albergatore infine gli scontri dopo la partita scattano quattro d'aspo parliamo di civita novese castelfidardo indagini sui tafferugli ultras incastrati dai filmati girati con i telefonini e poi la buona notizia terza corsia vicino all'uscita della 77 al via il cantiere siamo sempre in provincia di macerata manca solo il corriere per il fermano poi vado di nuovo al carlino passando sempre da voi dimenticavo questa l'avevo persa bellissima siti stati sfortunati è una uno sfotto che fa riferimento alla sconfitta l'anno scorso in finale in champions league dell'inter per mano del city e allora siti stati sfortunati sulla serranda dell'inter club prisco facchetti a zollino insomma così simpatica dai anche se imbrattare le cose non è non mi piace molto buongiorno morizio auguri di buon compleanno a mister santini che con i suoi allievi regionali ha sfiorato l'impresa con i suoi allievi regionali della scuola calcio giovane ancona una scuola calcio che ha ottenuto anche quest'anno enormi risultati pur essendo una società di puro settore giovanile e anche un bel ragazzo possiamo dirlo beata lorella che se lo può spupazzare lorella che ci scrive 349 39 18 169 torno ai giornali perché mancava l'edizione del corriere per la sua lettura con noi le marche in europa anche qui la sfida ricci ciccioli direttori d'orchestra a lezione crescono le iscrizioni al conservatorio di fermo magico tamberi abbiamo già parlato ma fa sempre piacere trovarlo in tutti i giornali locali porto sant'elpidio ancora polemiche sul centro islamico si chiede uno stop ai pregiudizi da parte del mondo dell'islam e poi comunanza per il consorzio di bonifica sindacati in tricea contro i pagamenti situazione che abbiamo trovato anche in provincia di pesaro imbrattò la sede della lega era un antagonista romano l'autore dell'atto vandalico scovato dalla digos rintracciato grazie a spy cam e telecamere questa era per fermo ora pronte le edizioni locali del carlino dopo il corriere come sempre però parto per il carlino con il nazionale giusto per capire un peletto che aria tiri attorno a noi allora la nuova europa al g7 ma è caos francia parigi l'accordo con la le pen spacca i repubblicani vi ricordo che entro un mese la francia torna al voto perché macron ha sciolto le camere dopo il risultato delle europee a proposito dalle europee agli europei molto più avvincenti europei a roma oro per tamberi che salta 237 e poi si coccola e spupazza il presidente magico gimbo sempre più in alto dalle notizie nazionali a quelle locali avevo pronto il carlino per ancone provincia e allora in primo piano massacrata di botte per gelosia il dramma di osimo lo ricorderete uccise la moglie davanti alle figliolette il marito è stato condannato all'ergastolo è ciò che si merita lo sfogo della famiglia acquaroli ricci la sfida è già partita vi ho fatto sentire poco fa sia acquaroli sia ricci nel servizio della collega giulia boschi tamberi show eccolo un altro oro davanti a mattarella due metri e 37 tanta roba e ci sono adesso le olimpiadi il bello viene adesso portonovo apre il pieri wine park cibo solo locale le novità della baia lo trovate vicino al parcheggio c'è un food truck con tavolini proseguono intanto i lavori per il nuovo stabilimento ho parlato dell'ascoli sì che potrebbe finire ad un fondo americano l'ascoli calcio e l'ancona calcio che fine farà il sindaco silvetti che sbotta ultimatum a tiong incontro entro il 18 di giugno tiong intanto continua a scrivere da dove non si sa di preciso non vi preoccupate paghiamo tutto salderemo tutto eccetera stendiamo velo pietoso fermo boom dei tornei studenteschi in 2000 al san carlo per le finali della serie a caro ride con coltelli e macete alla sbarria a giudizio due ventenni albanesi sempre per il fermano la storia di questi due ragazzi voglia d'avventura alessandro marziali e riccardo franchellucci attraverseranno l'alaska in canoa se tu vai se tu vai in alaska tu vedrai sì sì vedrai una vita da sindaco per citare una vita da mediano settimo mandato per cecoli e zavaglini quinto per capponi avete capito bene settimo mandato per cecoli e zavaglini conosco in particolare il sindaco di gualdo zavaglini mi permetto anche di salutare l'assessore monia batassa una squadra confermatissima quattro d'aspo intanto per scontri tra tifosi siamo ora di nuovo alle notizie di cronaca da macerata infine incredibile ma vero calci all'auto in sosta e addirittura tiro al bersaglio di pietre contro gli agenti inseguito e arrestato una notte di follia a macerata chiudo con il pesarese se riesco vediamo un po in primo piano c'è chiaramente mister preferenze ora mister sindaco vicino alla gente come sempre parla biancani morì al lavoro l'azienda giudicata negligente fab nel mirino della procura per la tragedia di simone mezzolani due indagati per omicidio colposo e poi la vicenda davvero perniciosa di carriera il ristoratore dissidente io io apro la sua iniziativa contro le regole anti covid era accusato di simulazione di reato carriera si era inventato le minacce a sé e al figlio condannato il ristoratore che aveva fatto molto discutere nel periodo del covid buongiorno da pina e renzo da campofilone sei forte come giornalista sì so forte a bocce a bocce sì grazie comunque al di là delle battute buongiorno buon martedì mi fermo stay with us sarebbe mercoledì però va bene ben arrivati a jesi questa è brava casa arredamenti cucine camere camerette living il nostro showroom è ricco di proposte per la tua casa stai cercando un tavolo intelligente per accogliere tutti i tuoi amici oppure un divano letto contenitore che unisce praticità e comfort ti serve più spazio nella tua camera per conservare piumoni e cuscini da brava casa troverai sempre la soluzione giusta per le tue esigenze vieni a trovarci e approfitta di tutti i nostri servizi da noi trovi anche pezzi unici non lasciarteli sfuggire siamo a jesi in provincia di ancona brava casa la nuova era della convenienza un'esperienza di oltre 40 anni e più di 10 milioni di occhiali venduti agli ottici di tutto il mondo oggi insieme ad una grande idea adriatica outlet il primo spazio aziendale del centro italia con vendita diretta di montature da vista complete di lenti su misura e occhiali da sole adriatica outlet un'esposizione di 10 mila modelli da vedere toccare provare e scegliere assistiti con estrema cortesia da uno staff di commessi ed ottici in grado di dare sempre la soluzione migliore al vostro problema adriatica outlet la qualità di